Grazie a tutti Mi spacco la testa quello Non ce lo sa altrimenti finisce male Viene da una famiglia di anarchici comunisti A stare con loro un sistema in pace Babbo Corriere, che hai fatto? Che è successo? Che hai sparato babbo, gli ho sparato Che ti ho fatto? Ho sparato a Florian Anche lui è venuto con la pistola L'ho fatto per difendermi Ma questi maiali fascisti Stanno in guardia babbo Che l'ha detto alla tua mamma Sì ma non le ho detto che vada all'estero Ho detto che mi nascondo Babbo, stare vicino che è molto impaurita Secondo te perché Stalin sta facendo tutto questo? Perché? Perché è della stessa razza di Hitler Non stai zitto Così ti cacci un mare di guai Ti ricordi? Quando siamo venuti qua Eravamo giovani La rivoluzione era ancora fresca C'era Lenin Se stava benino Ancora nei negozi Si trovava di tutto Se dicevi Beh, ci vuole tempo Per la rivoluzione Ma poi cambierà Quindi sei diventata Una loro informatrice No No Meglio, meglio, meglio così Guarda Così almeno tu ti salverai E si salverà anche a fede Non abbiamo mai parlato Di azioni contro rivoluzionari Al contrario Siamo tutti antifascisti E comunisti Di fede provata Le informative ci dicono Che anche lei Si è espresso tante volte In maniera negativa Nei confronti Del partito sovietico E di Stalin E che una volta Ha tradotto Da alcuni italiani Una poesia di Mandelstam È possibile Portatelo via E condannate Perché ho tradotto Una poesia Se è necessario Sì Allora tu saresti stato Messo Dentro Giustamente Da un sistema corretto No Per me Si è trattato Di un errore E lo dimostrerò Sì Se ti daranno Il tempo Allora Noi siamo tutti qua Dentro Per un errore E come mai Il compagno commissario Sapeva Che io avevo tradotto Una poesia di Mandelstam È un sistema Pieno di schiori Spettetela Sta arrivando la guardia Non potete fare Mi scamelle Io sono comunista Voglio solo Autore e camion Dio 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 È tutto Vada Vada Dio